Ciao ragazzi, so sempre io il vostro Volpe8131. Oggi farò un piccolo tutorial su come si fanno le intro per i nostri video. Allora, prima di tutto bisogna andare a cercare un programma che si chiama Flixpress. Dopo clicchiamo su Flixpress e arriviamo a questo punto. Allora, prima di tutto bisogna logarci oppure registrarci per chi non è registrato. Andiamo per fare il nostro username e il nostro password. Io c'ho Volpe8131 e la password. Apriamo il login. Adesso arriviamo in quest'altra pagina. Qua dove ci sono tutte le intro però sono a pagamento. Tipo 5 euro, 30 euro, 70 euro, 9 euro. Comunque, non bisogna andare su Free. Prendiamo su Free. E arriviamo alla pagina dove ci sono tutti le intro non a pagamento. Adesso prendiamo il terzo, cinema intro. E qua ci viene specifico come potrà diventare la nostra intro, eccetera eccetera. I vari colori. Rosso, verde, blu, giallo. E noi prendiamo il next. Ora, il secondo step. Prendiamo Agree. E andiamo su Customize New. Premiamo. Arrivati sul terzo step. Ci sono i vari colori dello sfondo da fare. La top line e la bottom line. Ora io scelgo il rosso. Su top line scrivo il mio nickname. 81, 31. E qua su bottom line scrivo quello che è il specifico della intro. Per esempio scrivo Minecraft. Minecraft. Di fianco ci abbiamo le audio da selezionare. Le faccio sentire tutte a tre. Questa è la prima traccia. La seconda. E la terza traccia. Ora io scelgo la seconda che è la più carina. Dopo sotto ci abbiamo delle opzioni. Per esempio questo qua è del 720p HD. Però bisogna pagare 2 dollari. E quest'altro bisogna pagare 1 dollaro. Noi non premiamo nessuno e due. E premiamo Next. Arrivati al quarto step. Qua già abbiamo reso conto quello che dobbiamo pagare. Noi infatti non dobbiamo pagare niente. In totale 0 dollari. Andiamo su Submit Order. E qua ci abbiamo l'ordine. Che abbiamo fatto. Apriamo la X. Andiamo sopra e andiamo sul nostro nome. Apriamo. E vediamo su sta pagina qua. Questa è una intro che avevo fatto prima. Premiamo sulla intro e vediamo la nostra intro. Minecraft. Ok. Per scaricarla basta cliccare sul download. Vabbè. Per ora è tutto. Probabile tra un paio giorni farò un piccolo vlog. Vi spiegherò cosa farò sul mio canale. Cosa no. Eccetera. E' probabile per la prima volta mi vedrete quella webcam. Perciò ciao a tutti ragazzi e al prossimo video. Ciao.